Questa mattina a Palazzo del Carmine, conferenza stampa del PD per presentare alla città il nuovo assessore della Giunta a Ruvolo, Massimo Bellomo, dottore commercialista, è già stato presidente del Collegio dei Revisori dei Conti qui al Comune. Ancora non ha le deleghe, comunque c'è già tanta voglia di lavorare per il bene della città. Sì, sicuramente ritengo che gli aspetti sfidanti della Giunta, che impegneranno la Giunta nei prossimi anni, aprendo una nuova fase ovviamente, mi trovano pronto e consapevole ovviamente anche delle difficoltà che si dovranno incontrare. Nel programma che ha stilato il PD ci sono diversi punti che vorreste attenzionare? Sono tanti gli aspetti che devono essere ancora affrontati da questa amministrazione e che riguardano la città e che la vedono un attimino in sofferenza. Sono un recupero di normalità su alcune cose, come ovviamente ci sono anche altre prospettive molto ambiziose. Inizieremo a lavorare sul recupero della normalità, non trascurando ovviamente quelle che sono le progettualità anche più importanti. Quindi confermato l'assessore Falci, sempre del PD. Adesso cosa si attende per le deleghe? Si attende quello che accadrà con l'Odc, con il futuro assessore dell'Odc? Guardi, per quanto concerne le deleghe, io come ho detto poco fa in conferenza stampa, non rappresento me stesso in giunta, rappresento un partito, rappresento un programma. Per cui questo ambito tocca al sindaco dipanarlo ovviamente in relazione con il partito. Grazie a tutti.